Buonasera e benvenute da Martina e Giussi di www.mogimagi.it Oggi è mercoledì 12 gennaio 2022 sono le ore 19 Vedete oggi sembro tutta pintiricchiata ma non è vero Non è così Allora oggi ci ritroviamo per spacchettare Guardate qua Mercerie neri Ecco qua Come ben sapete azienda leader nel settore Meno male che è arrivata perché incrociando le dita ma sicuramente sarà così In uno dei due pacchi c'è l'imbottitura che mi permetterà di fare insieme a voi Il fiocco nascita cavalluccio dei dei per creare per mia nipote Elisa che sta per nascere Ciao Teresa, ciao Katia, ciao Riana, ciao Lisella, ciao Elisabetta, benvenute, ciao Paola Allora perché io preferisco l'imbottitura americana dei mercerie neri a quella Ciao Fabrizio Grifani, ciao Roberta, ciao Donatella A quella effetto nuvola che vendiamo normalmente perché per le cose grandi Vedi anche mortino Vedi anche mochino l'ognomo gigantesco Preferisco usare l'imbottitura americana E' vero che costa un po' di più però per le cose grandi quella là è utile perché In pratica riempie il doppio quindi ce ne va la metà Non so se me so spiegata Ciao Daniela, ben arrivata Robby Bay Simpaticissima Ciao Giovanna, ciao Anna Ciao Eleonora Buonasera, benvenuta Elga, Maria Pia, ciao Ciao Cinzia, ben arrivata, buonasera Ma Barbara Triviani, dove sa che abbiamo appena riagganciato al telefono Ciao Annalisa Benvenuta Rosita, ciao Ciao Rita Capozzoli Finito ora di fare lo strutto Pelo pelo Ma perché lo strutto si fa? Lo strutto non è tipo il grasso che si mette tipo sul tacchino all'americana Non lo so Ciao Simona, Fabio la frattocchi, ben arrivata Paola, Orietta e Daniela Cugini Ciao Daniela, ciao a tutte quante Adesso nei film americani quando ci hanno da fare il giorno di ringraziamento Che fanno il tacchino che lo massaggiano costrutto Ciao Giada, ciao Stefania Mi sa poter in qualche pizza si mette No Giuse Ciao Gloria Sapete che abbiamo scoperto, io e Giuse abbiamo scoperto che in Giappone Giappone Precisamente a Osaka C'è una pizzeria Che fa una pizza che è pari a quella napoletana Tant'è che è stata riconosciuta da un ente ufficiale italiano Per la vera pizza napoletana Ebbene Il condimento Lascia un po' a desiderare la pasta È eccezionale Mo abbiamo visto questa pizza che è quattro formaggi Ha i quattro formaggi con il miele sopra Il miele sopra Orribile Ciao Daniela Costa, buonasera Paola Crea per voi Ciao Daniela Scuto, ciao Maria Rita e buonasera Simonetta Ciao Laura Laura David dice Martina quanto tempo? Laura David Mi stai un po' Fuori fase Stavamo in diretta ieri sera Ciao Francesca Francesca ha informato La torta di mele E Roberta Chiede a Maria Pia Il tutorial per fare lo strutto Ciao Gina, Federica Buonasera Stasera spacchettiamo tessi Menanda Menanda Stefania Lo strutto si usa anche per fare il casatiello Vedi Giuse Per le piadine E allora ben ritrovata Laura Ciao Tina E un saluto anche a Giotto Ciao Mary Maria Pia dice Sì mi hanno Mi hanno Le cose Leggi un po' Mi hanno dato le cose che le ho pulite dal grasso E così poi ho preparato lo strutto Si usa al posto del burro o dell'olio? Katia dice che invece lei al forno Ha la torta al cioccolato fatta dalla sua piccola Emma Cogliamo l'occasione per salutare sia Katia che Emma E sì Gloria Jacopino Il miele Cioè tipo la pizza a margherita o lanas Che sto a fare? Sto a fare un casino Barbara ciao Eccoci qua Online Ah c'ha ragione Simona Simona dice lo strutto si usa anche Noanna per la piadina C'ha ragione Se fa nell'impasto dalla piadina Vedi Paola che fa a chef dice Formaggi col miele si mangiano buono Buonissima No voi neanche potete immaginare quanto mi sta invecchiando male Giussi Che moglie è presa che lei si è di mangiare ricotta col miele Buonissima Ma hai mai neanche la vita sua? 37 anni 40 Fammo 40 Ma no Ciao Tania Katia Grazie Allora Tania dice che in Sicilia con lo strutto ci fanno i calzoni Tipo la pizza Pasta pizza Tina dice Che vi porto quando vengo? Dolce o salato? Tina Tina Io non avanzi le richieste Non avanzi le richieste Ma tu sai Ma tu sai Patrizia Anche perché ci fa piacere dei vedette Quindi che te lo dico a fa Il regalo nostro sei tu Tina Allora Patrizia Ciao mochine Chi è? Anna Anna Allora ciao Anna dal vivo Stiamo in diretta Anna Ciao Rita da Palermo Ciao Silvia Vasano E ciao Elena Amore del sia Un bacio grande Guardate come esco pintivicchiata Ma non è vero Giuro eh Sono normale in faccia Maria Santoro Buonasera Elena Se è vero che sono la zia del tuo cuore Perché oggi sei venuta a trovare zia? Che c'era un bel sole E te volevo far vedere i cagnolini Che alla femmina Tocca tagli ancora il nome Che non ce l'ha Il maschio si chiama Rollo La femmina non ce l'ha Ciao Silvana Buonasera Benvenute Ciao Paola Bianchina Giudi c'è Bianchina Perché è grave sì? Perché è grave? Ma sarà una questione di luce oh Mica sto... Sto bene? Assunta che ci sta seguendo dalla Todis Assunta passa il volume Se no si fa come riconosce Amalia ciao Buonasera ben arrivate Allora giù si mostra un attimo a Servina ragazza E poi come arriva facciamo spacchettamento dei neri Ciao Nuccia Silvia Fasano Elena mi nipote dice che la femmina si chiama Ninnoletta Elena tu non puoi chiamare tutti Ninnolo, Ninnoletta, Ninnolino Quindi il nome è stato bocciato Tocca trovargli un altro nome Ciao Giussi Marasco Ciao Patrick Grazie Barbara Marzia Paglia Ma quanto tempo che non ci si vede Chris Marti Manuel Ciao ragazzi Un bacio dalle mie bambine Cristina e Martina Ciao Emanuela da Reggio Calabria Ciao Oriana Rollo Anna Bosco Ciao buonasera Loredana buonasera ben arrivata Angela Impagliazzo Ciao ho appena iniziato a seguirvi da Ischia Beate a te che stai a Ischia Comunque benvenuta tra di noi eh Angela Gabriella Manco Ciao buonasera pure a te Ben arrivata A Ischia Che c'è una barca per tornare sulla terraferma Elisabetta Che dici Etta Imma Sono entrata da poco Cosa ci fai vedere Imma Corsini Questa sera spacchettiamo Mercerie Neri Che è un'azienda leader nel settore Vedrai che cosa esce dai pacchi Intanto saluto Katia Angela Arpino Lori E Tina Ficara Buonasera Benvenute Cristina Bonanomi Ciao da Prato Eeeh Tania Sa chiamo Mochina Poi ma sono costretta a pigliammela E quindi no Maria Grazia Zappala Ciao Eeeh no Mochina no Perché poi pensa chissà la piglia Magari tiene il nome nostro e tiene Mochina Non me la sento Non me la sento manco della scialla dopo Stefania Battiato Battiato come il cantante Ci saluta da Enna Sicilia Eh Stefania Santa Cruz Ciao dalla Sardegna Virgola per la cagnolina Carina virgola Nella Ciao buonasera Panagola Ciao benvenuta Angela Urso Simonetta Donnelli E Eeeh Oriana Non lasciarli Ma come faccio Isaura Benvenuta tra di noi Daniele Antonici Ma che cucci li sono Eeeh Boh So mi scuglio Daniele Chiedi a Carmen Che chiamo mannata il video A Carmen Rosina Ciao ci saluta da Porto Empedocle Angela Vedi da Bari Patrizia Castaldo Che hai scritto? Il mad Ghe Cio Jack Il mad Chie Il Mad Chie Tio Jack Ma che è? Fabio Lì Porpetta E' carino Pure Porpetta Eeeh Porpetta Virgola Tatti mica Sa Devo Tenne Noi Eh no Si mette Noi Eh Metti Nome Lilli No Lilli Non lo posso Mettere Perché mi ricorda La barboncina De Claudietta L'amica nostra Che non c'è più E me fa brutto E' scomparsa Quanti anni C'aveva Lilli Eh Non mi risponde Giuse Comunque c'era Grossa C'aveva tipo 15 16 anni Rita Ferdico Vorrei acquistare La macchina Cricut Me la consigli? Rita Io Eh Ma stengo Da datti consigli Perché noi Nave nemmo Dovresti chiedelo A chi la venne Magari Sicuramente Ta consiglierà Diciamo che Il mio parere Eh Indiretta Non mi sento De dattelo Io Avevo Un labrador Che si chiamava Selen Che sarebbe Dea della Luna Bello Bello pure il significato Ciao Paola Benvenuta Sto aspettando la Susi Sto facendo una chiacchiera Aspettando la Susi Maria Rita Davide Maria Rita Davide Elena State in quattro Sarite Bruschetta Oh raga Bello Bruschetta Forpetta Chanel E no Chanel Non ci rappresenta Poi Chanel Non so perché Ma mi vengono Mette sempre Tipi Chihuahua Eh A voi A me Mi vengono Mettere I cani piccoletti No Non so perché Maia Bello pure Però Maia Era il pitbull De Antonio Eppure le E lo so Io I nomi Poi se me si collegano Ancani Non ce la faccio Che mi sono persa Per chi sono i nomi Ah no Stavamo così A chiacchierare Perché avevamo due cuccioletti E E niente La femmina Gli manca il nome Roberta dice Si vede che è una decina Perché stamattina fuori Tutta è porfetta Bruschetta Oriana dice Mirtilla Oriana Ma il gatto Si chiama Mirtilla Eh Amira Chiamala Fommi Ma tu c'hai il pallino E l'onora dice Infatti Chanel è il nome Dato al mio chihuahua Lo vedi Paola Cola Molli Eh no Molli non glielo posso dare È il cane di Sabrin Gloria Dea della luna È meraviglioso Complimenti a chi Eh infatti Carlotta Camilla come la tartaruga Amica di Albaruccio Che figata Bello Camilla Lea Porchetta Porchetta E bruschetta E rosetta Porchetta e rosetta Il mio chihuahua Si chiama Mirtillo Cannella Carino cannella No non c'è femmina Che milo Iurca Iurca o urca Come urca urca Di Rorero Oggi spende il sol Lola Come la cantata Amica di Giussi A Ponze AstraZeneca Non io metto Astra Paola Astra non io metto No no Sono cuccioli Stefano Sono cuccioli De Un cane Un cane Una cagnoletta De un amico De mio padre Che l'ha portata A partorì qua Perché lui Non aveva la possibilità Di farla partorì a casa Però noi logicamente Al maschio Anche perché tutti i giorni Si incontrano con Kira Voglio dire Ormai vivono davanti Alla porta di casa nostra C'è sta il maschio Che addirittura Graffia Per entra Quella è un attimo Che apre la porta E stiamo tutti allegri In famiglia Gloria Dice Alexa Sì così Mi metto a litiga Pure con lei Malibu Suggeriscono i miei bimbi La mia Che si chiama Puffetta Il mio pitbull Si chiama Divina Che tipo di pitbull È Elena Bimba Millie Nessuno Però ha tirato fuori I nomi Tipo Asia Kenya Brescia Loredana E fai contenta A Giussi A Giussi Brava C'ha ragione La chiamiamo Lori Chloe no Chloe è il bassotto De Valentina Non lo posso chiamare Ciao Piera Gigi Lina Somma Gioia Lulù Eh sì C'è sta proprio Aria Bello Aria Ciao Martina e Giussi Da Fiumicino Maggie Eh no Maggie non ce la posso chiamare Chiamare Roma Paranza Ciao Ciao che sorpresa Io ho un maltese di nome Zaki Carino Zaki Luciana Ma sei tu Ma vuoi portare a Zaki Cioè vuoi far conoscere Zaki Amarti Si mi chiamo da sola Le mie si chiamano Goccia Ala Ari Ariel Quattro ce n'hai Ma so D'Italia Come Dai Lucia Eh Robè Mopure tu C'hai il pallino Chiamala Kenya Ah Roberta dice Vero Chiama la Kenya In fondo non dovrebbe essere mia Allora Roberta Per quanto riguarda sto discorso Mi sa che noi abbiamo sbagliato Perché mi sa che Rollo È femmina Ma comunque si continuerà a chiamare Rollo E quell'altra che noi credemmo che è femmina Mi sa che è maschio Comunque la facciamo vedere al veterinario E Daphne Il Gordon De De Viola E comunque Ciao Eugenia Zara Il negozio di abbiamento Miscia Io alle medie Avevo una ragazza Che si chiamava Mascia O all'elementare Mica ma la ricordo Ma la ricordo La ragazza Perché non è Eh Federino Ma guardaci te sotto la coda No Non ci guardo sotto la coda Ah grazia Che fai Entri così a gamba tesa Sto aspettando Qua santa donna De tua cugina Che così Viene qua Mi ripiglia E fa un'ospacchettamento Stiamo a parlare Che devo dare Non mi ha una cuccioletta Però mi sa che è maschio Mia Sì è carino Mi cado Quelli che si maniano Quelli che è il grande fratello Ilenia no È troppo da Da ragazza Da 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 Umana Eh Ilenia Ma la chiamo Giuseppina Martina Con core Giallo e rosso Magica Che vuol dire Ti chiamo a Roma Ciao Caglia Giacchetti Simona Dice Chichi Rosicchio Tu calcolare Allora Avevo visto Un manga Avevo visto Un manga Ma che sta Grazie Ma che sta Dio Ma che sta Dio Chiera si chiama Mia Maria Santoro Kakappa Ma si chiama Chiera Mia Chiamo Chiera Si girano tutti Come sapete Che in famiglia De In famiglia De La cugina De mi madre Tutti i maschi Della famiglia Si chiamano Roberto Quindi Ne chiami uno Se ne girano tre No Stefano Ma manco mi piace A me A primette No No Bocciata Stefania No Ragazzi Anna Troppo veloce Ares Perla Hoop Hoop Hopela Io ho due Hitbull Che si chiamano Mira E l'altra Easy Carino Ma sto American Quelli Così Tozzi Fatti e Gigio Chiamano Rulla Rullerollo Mica male Ciao Francesca Vieni online Vieni online Bravo E briciola Va bene per bambi i sessi Bambine Di consiglio Lili Se a femmina Mi può piacere Anche il nome Zoe Gigia Milu Yorkshire Che si chiama Mia Vedete Pepe No Pepe si chiama Il cane Di mio padre Mi padre Mi padre Che mette tutti i nomi De spezie Non ho capito Perché comunque Clio Crizia Cuba Mila Trini Molli Asimo Stai partita Quarta Petra Petruccelli Buonasera Ben arrivata Niki Belli Spank Carino Spank E il fratello Lo chiamo Hello Eh Quando Mi chiamo Hello Spank Ciao Luisa Scialdone Spacchettiamo Mercerie Neri Cioè No Sto un attimo Aspetta giù Stiamo a fare Una chiacchiera Mo arriva Comunque Marti Io Ho Un marito Che si chiama Fabio Vale 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 Scusa Marti Non ho sentito Il discorso Iniziale Di cosa Stai parlando Dei tu cuccioletti Margot E Lupin Come cani Di mia amica Carina Buonasera Mokine Una diretta Sorpresa E se non c'ho avuto Il tempo Da avvertirvi Infatti Siamo pure Visto Ai sette De solito Noi muoversi Sei Mila E la mia Mamma Ciao Zola Buonasera Zola Come il car Aracciatore Eh Paola Seravini Scheggia Abbiamo Deciso Si chiamerà Orsina Elena No Elena No No Né Ninoletta Né Orsina Devi venire qui E lo decidiamo insieme Però guarda quanti bei nomi Stanno a di tutte queste signore Eh Birba Francape Ciao Marina Ciao Pi Pi Chiamate la mia Chiamate la rosa Ciao Isangela Ma perché poi Orsina E' secca secca Qua la voriella Maria Pia Frilli Ci dice Spedito Silenzio Buh Non lo so Marie Il mio Il mio Yorkshire Si chiama Laki Raffaella Rubino Dice Marti e Molli Minou Dolce Minou Ma vedevate? Io si Macchia Eh no Macchia è il gatto nostro Stella Andiamo sul classico Zucchi Zucchi Diminutivo di Zuckerberg Manco male Ma dov'è Giussi? Eh un attimo davanti a Servina ragazza Tina Zuma Zara Luna Eh Luna no Porella Luna mi padre C'aveva un Non so se conoscete la razza Mamma la sono scordata Come si chiamano i tedeschi? Kursar Kursar La tedesca no? Eh E la marca tedesca Una razza tedesca I Kursar Ma era di intelligenza Quel cane Una bomba Che poi era la mamma Di Nerina Il cane che si è preso Chiara l'amichetta mia Il cuccioletto Nerina Isangela Kira e Luna Ma davvero Luisa C'è una gagnolina Che si chiama Kira Nana Alessandra Ma è femmina Ehm 75% Se credete si Mo Ci hanno Insinuato un dubbio Mo Roberta Verrà venerdì E controlla lei Ve le abbiamo Ridicte Leo e Lea Lulù Dice Viviana Sì le ha Le hai viste Sono Chihuahua Ah Quando abbiamo fatto C'ha ragione Quando abbiamo fatto Il concorso Certo Certo Neve Ma è vero Che c'è Che Ma è vero Che l'ha fatta Oggi a Roma Ma Che ti devo dire Allora È venuta assunta È venuta assunta E dice che Che sulla prenestina La talea Aveva nevicato Ehm Poi Chi è venuta Altro Non mi ricordo E dice che Aveva nevicato pure Ah Daniele Vole a Daniele Dice che il marito Aveva trovata neve Che era La centrale del latte Io raga Non ho visto neve Solo tanto 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 freddo Ma poi penso che Mo Voi dite neve Ma sarà stata Ma che sarà stata Ciubi E non mi piace Star Trek Nala e King Sheila E noi No Non ha nevicato Qua Simona Rickman Ma tanto scrivi No Qua no Ma che neve Ma sarà Sarà stata Acqua Neve No Quella Sì sì Questa mattina Molto presto Ah vabbè Ma davvero Simona Stava a Russica E dice che ha nevicato Luisella pure Dice che ha nevicato Ah guarda Io stavo in piedi Ho pubblicato pure la torta E ah ne veniva Ho vista Però quello che mi spero Luciana Ah vedi Luciana dice che ha nevicato Dal centro di Roma Se a Paola Ma che sta a dire Paola Teravini A sette cammini ha nevicato Ma come A sette cammini ha nevicato A case rosse no Ma che sta a dire Pure Paola crea per voi Oh ieri Sei stavi in piedi Eh oh Dio un po' Petra Petrucce Condensa ghiacciata Guardate che lei È di Milano Asa neve Sì tra le 4 e le 5 Robè Per piacere Mettete a fare valigete Anche a talenti Stanotte Allora Io Arze le mani Non so che dire Zero Proprio zero Io stavo in piedi Zero Proprio zero Ma sapete Manca un po' De ghiaccietto Su Sui fili d'erba Cioè Zero Proprio zero Eh A noi ce l'ha schivato Niente Non ha nevicato qua Eh infatti Tania Capace che le seggia Si era sciorta Isangela dormiva Togliatti c'era neve Che ne pensate di Che ne pensate di luce come nome Un'idea viviana Luce Luce Aria Gli elementi a me mi piacciono Impossibile neve a tratti Lo dice anche mio nipote Che è Un fisico Dai Epo Eh Aro si Bo Luisa Sto a pelare le patate La cucciola Chiamala patatina Ah beh Tu mo perché Te Te Trovi Te trovi Sto a pelare le patate Eh Ragazzi Vi saluto Come figlio Andrea Ciao Andrea Figlio di Francesca Balsamo Quanti anni c'hai Andrea Hai ricominciato scuola Sti figli Per chi state cercando il nome Oh Attone Ciao Ci avevamo due cuccioletti Che l'ha partoriti Una cagna Di un amico di papà Che non poteva partorire a casa E quindi l'ha portata qui E quindi Sti cuccioli Sono diventati un po' grandini Perché ormai c'erano tre mesi E in pratica Arrivano a grattare la porta Mo Il maschio L'havamo chiamato rollo La femmina L'havamo chiamata Però L'havamo capito Che C'è senza il dubbio Che mi sa che il maschio È femmina Ma continuerà comunque A chiamarsi rollo E Quello che credevamo Che era la femmina Mi sa che è maschio Però comunque Non c'è il nome Ha capito Mo Mi cugina Sì Mi cugina A mia nipote diceva Orsina Ma la posso chiamare Orsina O Ninno Letta Oh Carmen Ciao Ben arrivata Stava a fare la pizza Così Bella della sciorta Stava a fare la pizza Al grande fratello Hanno detto Che a Cinecittà Ha nevigato Che t'ha già dici Renuccia Zeus o Chira La mia amica Rosella Ciao cara Focaccia Stai fai la fame Eh La fame Romeo Il meglio del Colosseo Brava Raffaella Rubini Stefania Sanzoni Ciao Benvenuta Chris Marti Dice Noi a Reggio Calabria Siamo già in dad Mi madre no Vero mamma Tu stai in presenza Perché non te vedo Qua mattina Dice Non ce la faccio più Eh Non ce la faccio più Ma Ma Ed è iniziata la dad No Carmen La posso chiamare Mochina Sennò dopo Diventate famiglia Prima di subito Ha capito Quelli Ruspa nella porta Cioè Un attimo Capra la porta E l'allero Ha capito Carmen Sì Federì Non te leggo Federì Non te leggo Ciao Ciao Adriana E ciao Carmelo Adriana e Carmelo Che tra l'altro Ieri ci siamo mangiati E E Pasta di mandorla Quella che ci avete portato Dalla Calabria Mi hanno dato una botta De zuccheri Assurda Proprio Pim 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 Sono stata attiva Tutto il giorno Buonissimi Eccomi Sono tornata Butta sta mascherina Sì No ma spacchetta Amo Che ho fatto Stiamo in diretta Diteci Se ci vedete Stiamo in diretta No Ah sì Isangela Ciao Giussi Stiamo in diretta Sì Ciao Loredana Swiccia Swicciato Paura Eh Putta sta mascherina Visto che sei appena andata Salutiamo Cesila Cesila Se c'è Se ci sta vedendo Ah Era l'anipotece Cesila Sì Non lo devi dire L'anipotece Cesila Ciao Cesila Rosella Sì sì In presenza Ma alcuni Alunni In dad Guarda che Dopo tre contagi Vai in dad Pure te Bella Con te contagiati Te ne vai in dad Fatti con la stampante Che oggi ho visto Che facevate Via Crucis Con la stampante Ma che ne so Vedo mi pare Che hanno giro La stampante Ciao Petra Eccoci Allora Iniziamo Comunque venerdì Viamo sapere se è davvero maschio La femmina Comunque a noi Non ce ne frega niente Perché non è che stanno guardando Tanto il genere Tanto è che la femmina Si continuerà comunque A chiamare rollo Cosa fondamentale Giusy Ma che me l'ha tirata fuori Bianchina Si si Stava quasi tutta Che mi fissava Si 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 Ok perfetto Allora Andiamo avanti Grazie dice Voi siete in zap Vado giù si Vai Ok perfetto Allora Apriamo questo Che sicuramente È quello che mi serve Per fare il fiocco nascita A mi Nicote Allora Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Che sicuramente È quello che ci serve Ma è un'altra cosa Eh sì Sicuramente Ecco qua È arrivata Ragazze Imbottitura americana Basic fill Dice che vuol dire Che ne so Se chiama così Aspetta La faccio vedere Ecco Ecco Per noi comuni mortali Perché pur io La chiamo così E noi comuni mortali Perché pur io La chiamo così È l'imbottitura Quella rossa Quella rossa Perché c'è sta Questa Che è la Basic fill Ecco qua E poi c'è sta Quella a fiocco Che creativo Un effetto puzzle Quando andate a Che costa ancora di più Perché ne mettete ancora di meno Rende ancora di più E quella C'ha l'immagine blu Io uso questa qua Con l'immagine rossa Non vi posso dire Le specifiche Perché è tutto in americano Questa è Imbottitura americana Io a stento Sono italiano Quindi State maffida Voglio Tirando fuori Giuse Guarda che ho visto La tua Senza etichetta Senza etichetta Ta-tan Ok Sera sfuggita Quindi 3 6 9 10 Solo 10 Forza 10 Per tutta Italia No Allora Andavanti Imbottitura Basic fill Costa poco poco di più Rispetto a quella la Effetto nuvola Ma la consiglio Per fare i lavori Un po' più grandi Perché Ne mettete di meno Ok E' un po' più Ehm Come via Il termine Crespo Perché al tatto E' un po' crespa Quell'altra è nuvolosa E' sofficio Questa è un po' più crespa Però se lega meglio E ne serve di meno Poi oh Provare per credere Oppure chi già ha provata Oppure tra un po' Vedrete il tutorial Perché Comunque questo pacco Che è quasi mezzo chilo Costa 7 euro Nel senso Costicchia però Non è un costo Ma certo Certo Eccessivo Capirai Noi se fanno una ricerca Per il stop Del stop A prezzi accessibili E che sta andando a pia L'imbottitura dei burgari Non credo proprio Non è da molti maggio No Eh Allora Ragazze Che cosa abbiamo qui A parte Altra imbottitura Ma poi C'abbiamo Pannolenci Alto 45 cm Grigio Nuvolato Con fiorillini bianchi Ma vi faccio vedere Fiorellini Che è trama Che stabile Non c'ha No Fiorellini così stabile Non ce l'ha Facciamo anche il test Morbidezza Eh Di questo pannolenci Eh Ecco qua Grigio Melange Nuvolato Vedete non è un tintonito È melange Con fiorellini bianchi Che non sparaflesciano È una cosa tenue Poi Poi Qua ci abbiamo Un Panna Secondo me È un panna Pannolenci Panna Tramato Con fiorellini Sempre bianchi Ma questo è Talmente tanto tenue Che vi dovete proprio avvicinare Per vederlo Non dà fastidio per niente Ecco qua Bellissimo È un panna Primavera è tra di noi Poi Bello Questo è stupendo Ci abbiamo Un pannolenci Io direi Un 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 ecru melange Eh Tra un ecru e un grigio Un ecru Ma tu ce lo vedi grigio intorno No Un ecru Ecco qua Un ecru Guardate che bello Per pochi Eh Guardate Guardate Toccarebbe suonarla Pentagramma Eh Chissà se suona Chissà se suona Sono messa a casa Ecru Nuvolato Con davanti Pentagramma Con note musicali Bello eh Bellissimo È bello eh Sì Stupendo Mi piace tanto Io una volta Lo sapevo leggere Il pentagramma Pure io Io lo so leggere Oddio Sono fuori di allenamento Però Lo so leggere Lo so leggere Che sono la vita ragazzina Pianoforte Ma quando mai Ma quando mai Eccolo qua Allora ditemi se non è Lo stesso Ecco qua Questo qua è Pannolenci E crew melange Quello che ci abbiamo fatto Tutti quanti Le calzette No Me correggo Quello che Chi mi è stata a setticcia Ha fatto le calzette Come mia Ecco Così Perché poi ognuno Bene o male Ha fatto come gli pareva Ditemi se non è La stessa storia Questo è Alto 90 cm Per un metro E costa Costa 5,50 Guardate Questo qua è E crew Melange Nuvolato Guardate questo Sì Ecco qua Eh Questo È il pentagrammato Sono patenti Alla stretta Alla stretta Niente Per se stanno a rimbellare Le monti Pentagramma E fiorellini È 5 euro al metro Anche loro Però sono più bassi Sono 45 cm Sì sono 45 cm Però sono più bassi Però sono tramati Eh sì Scusa Poi qua ci abbiamo Grande 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 Grandissimissimissimo Assente E so contenta Che è tornato Il color Sempre pannolenci Un millimetro Ovviamente Color Carne Per fare Tutte 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 Le faccine Che vogliamo Ecco qua Questa la vendite Sempre al metro 90 per un metro Sempre 5 euro Ecco qua Allora E poi Meno male Qualcun'altra Presa Sempre Imbottitura 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 Americana Ecco qua Ecco qua Ecco qua Che è? Che c'è? Finito Eh Io magari Ti ho detto Fodonte Bebano l'enzi Tanto Finito Vabbè Accontentamos Piccolo Rifornimento E qualche novità Infatti ha fatto Rifornimento De crumelange Che era terminato E poi È tornato Il carne Grazie Perché Era finito Veramente Da tanto tempo Io Penso Molto prima De Natale Che il carne In sé vedeva Poi Sono arrivate Le tre novità Il beige Con fiorellini Bianchi Il pannolenci Grigio Melangiato Con fiorellini Bianchi E il pannolenci E crumelange Con pentagramma E note musicale Nere E Lo spacchettamento Finisce qua Ma è disfacuto Perché è stato Come una ceretta Sì Trac La chiacchieravina Ma è molto Trac Carmen Carmen Ce l'avevo detto io Era finito Carmen Chiede Il fommi blu Di Prussia È arrivato? No Ma l'hiamo spacchettato No Speriamo arriverà L'ultima volta Era finito Proprio dal fornitore Era finito Ma perché Volemmo parlare Tu parli del fommi blu Di Prussia C'è Marmetro No Il blu Di Prussia È finito Ma volemo parlare Del fommi bianco Volemmo parlare Del fommi bianco Che manca Dai primi di dicembre Eh Giussi Che vogliamo parlare Eh Sanno sti colori Che purtroppo C'hanno un po' di problemi C'ha un buco C'ha un buco Sì Esatto Il problema è Dalla fontanella Ne approfitto per salutare Daniella Fontanella Chi sa mai Se ci vedrà Comunque ne approfitto Per salutarlo Sì Sì Va bene ragazze Allora Niente Vi salutiamo E vi lasciamo Andare a cucinare Grazie ancora per essere state con noi Un bacio grande Grazie pure per la chiacchiera E buona serata Da Martina e Giussi Di www.mogiumaggi.it Ciao a tutte Ciao Ciao Ciao